Se fossero le donne a poter scegliere come investire del danaro per migliorare la nostra società o semplicemente la loro vita, su che progetti investirebbero? Noi siamo andati a chiederle ad alcune di loro e per farlo abbiamo scelto un luogo femminile d'elezione, un parrucchiere. Seguiteci! Se tu avessi del danaro da investire, che progetto ti piacerebbe poter finanziare? Visto il lavoro che faccio, che sono una regista, mi piacerebbe riuscire ad avviare dei progetti comunicativi che parlano di donne, questo sarebbe molto interessante. Ci vorrebbe di più la possibilità di poter coniugare il tempo personale con il tempo lavorativo. E credo che potenzierei tutte le attività che possano essere svolte in privato, da casa. Cercherei di aprire uno studio di traduzioni, quindi di avviare questo tipo di attività. Aprirei un ufficio, comincerei a cercare delle persone che potessero collaborare con me. Mi vengono in mente i piccoli negozi di quartiere, quindi spingerei una piccola libreria con un angolo per il tè o per il bicchiere di vino. Mi piacerebbe aprire un laboratorio di moda ecologica, delle stoffe, delle materie plastiche e riutilizzarlo per fare dei vestiti, delle scarpe, degli accessori, anche dei gioielli magari. Potrebbe essere molto carino, originale, soprattutto in linea con i tempi e dobbiamo essere molto attenti all'ambiente. Per il momento, dico, non sono riuscita ancora a farlo. E voi che progetti avete? Grazie. 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 Grazie a tutti.